ciao amici di motociclismo siamo in toscana in val d'orcia per la comparativa maxi enduro 2017 sarà un incredibile cost to cost dal tirreno all'adriatico fatto all'andata tutto su strada attraverso le strade peniniche e al ritorno tutto in fuoristrada dopo aver montato i tasselli ma vi presento le protagoniste di questa nuova comparativa che sono la multistrada enduro pro le due ktm in versione r e la bmw r 1002 gs rally quindi delle crossover con una particolare attitudine al fuoristrada a fianco a loro abbiamo scelto due protagoniste una col cerchio 19 una col cerchio da 21 che nelle nostre precedenti comparative hanno mostrato una grande attitudine fuoristrada e sono l'onda africa twin e la yamaka super tenere ze vi saluto dalla toscana e ci vediamo fra un paio d'ore a trevi in umbria ciao